E buongiorno! Cosa sarà successo in questi 20 minuti e mezz'ora? Siamo partite da Garda e abbiamo seguito il contorno del lago in senso anti-orario e non pensavamo ma vi facciamo vedere cosa è successo. Questa è la prima volta. Sì, sì, sì. Aiuto! Abbiamo trovato un intoppo! Siamo stompe! Però era l'unica alternativa! Allora, questa è la situazione. C'è l'acqua troppo alta. C'è l'onda, aiuto! Ecco, cane! Ma che ho messo le braghe corte? Ci sono i sentieri allagati. Eh sì, diciamo che non ne pensavamo. Questa cosa, per fortuna c'è il sole e adesso, in cinque minuti, ci asciughiamo e riprendiamo. Abbiamo scoperto l'inghippo. Abbiamo sbagliato a strada. Perché facciamo sempre dei danni quando si mette? Vabbè, dovevamo girare la stradina. C'è anche il signor Gabbiano, venuto a salutarci. E adesso vediamo se riusciamo ad andare avanti e riprendere il sentiero. Perché tornare indietro... no, anche no. No, per tornare indietro non è bene. Dovevamo guardarlo prima, stava bacacchio. Eh, è vero. Comunque, sapete che dovete girare. Siamo in mezzo alla giungla. Siamo arrivati appunto a San Vigilio. Con quello che abbiamo trovato per terra e non potevamo lasciarlo lì perché se non andava finire nel lago. E adesso vediamo se riusciamo a trovare il sentiero. Abbiamo il sentiero. No. picnico con vista yes abbiamo del riso abbiamo farinata e patate con maionese light ma la vista mamma mia allora tappa incisioni rupesti di grero che è giusto per strada e guardate che roba se non ci sono neanche protezioni questo non so provate a dire cosa vi sembra c'è anche un bottone chiara un bottone grande sembra non so forse è un pozzo siamo pronte per il ponte tibetano ecco la che arriva travalla un po non guardi giù quanto è profondo è bello profondino e che brava che sono stata a fare questa ripresa aiuto aiuto comunque qualcuno è rimasto fermo chiara qualcuno soffre di vertigini bello sto ponte comunque dai che ce la fai dai che ce la fai fermati che ti faccio una foto arrivate a pai e questo bar purtroppo è chiuso ma sabè sprizzettino è un po' di più dai amici sei durante la strada no 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 seconda prova una grande no se dopo ci mangiamo sapone allora e cosa è successo in questi minuti che ci siamo persi di tutto abbiamo preso il bus prima ci hanno offerto da bere poi abbiamo preso il bus siamo tornati a Garda e adesso ci spariamo una di quelle e poi si torna a casa quindi salutiamo alla prossima finisce così ma questo tour del Garda forse ci saranno riprese da questa volta si esatto mamma mia non potete capire che gioia vedere questa pizza mamma mia mamma mia che bello friadelle e salsicce vabbè vabbè mi bello come però units in